Posso dire una cosa? Solo dopo facciamo il giro dei posti. Allora, due cose... Allora, la prima cosa è che le calze vanno consegnate solo ed esclusivamente al bambino presente. C'ho il cugino, c'ho il fratello, c'ho lo zio, c'ho l'amico... No! Ok? Quindi questa è la prima cosa. Allora, seconda cosa... Cos'era? Te la volevo dire, non me la ricordo più! L'angolo della griglia! Brava, Anna! Ah, sì! Allora, intanto l'abbiamo ancora. Intanto andiamo con la scena, siamo prati. Stavo cercando anche di segnare di che se è un po' buona. Perfetto, dimmi tutto, papà. Allora, sei una cosa? Allora, sei una patata. Io quello proprio sei un po' buona. Allora, io ti posso consegnare anche di... Viva! Ti chiami! Viva! 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 Viva!